Come ormai i recenti studi hanno dimostrato, anche portati avanti dalla società italiana di HTA insieme anche all'Agenzia del Farmaco, si è visto in maniera molto forte che i modelli organizzativi gestionali, i modelli di presa in carico dei pazienti e i percorsi sono ormai la variabile fondamentale per garantire da una parte un accesso rapido alle tecnologie efficaci e dall'altra parte anche atte a migliorare l'aderenza alla terapia. Di quanto stiamo discutendo proprio oggi, tra l'altro bisogna sottolineare che il tema dell'aderenza alla terapia è molto importante, ci sta più del 50% di pazienti che non sono aderenti alle terapie e questo chiaramente comporta una riduzione ovviamente dell'impatto della tecnologia e dei farmaci che vengono utilizzati in termini di efficacia, ma dall'altra parte anche quindi comporta uno spreco di risorse per il sistema. Quindi strutturare, rimodellare il percorso organizzativo e di presa in carico del paziente in maniera tale da garantire un accesso rapido alle tecnologie, un accesso rapido anche al monitoraggio, alla misurazione dei risultati, questo ovviamente permette da una parte di migliorare il livello di qualità della vita dei pazienti stessi e dall'altra però permette anche al sistema non solo di utilizzare meglio le risorse ma anche di poter generare anche delle riduzioni di costo. Grazie a tutti.